Edilmag è la prima piattaforma di sharing economy nel settore delle costruzioni. Che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che mettere insieme una rete di imprese, di costruzioni su tutto il territorio italiano. Ne abbiamo 570.000 e sono tutte delle PMI, con un 87% che ha una media di 2,4 dipendenti, quindi tantissime imprese dislocate su tutto il territorio. La piattaforma dà la possibilità di condividere le attrezzature ed i materiali, in modo tale che tutte le imprese possano condividersi, quindi scambiare queste attrezzature. La cosa importante è che abbiamo donato questa piattaforma alla protezione civile, quindi in caso di emergenza e calamità naturali anche le protezioni civili hanno la possibilità, così come i comuni, di poter attingere a questo materiale. È una nuova soluzione dal punto di vista anche culturale, perché in Italia, ahimè, dobbiamo superare questo passaggio. Edilmag la stiamo portando in Francia e anche in Germania ed è sicuramente una di quelle risposte fondamentali in questo momento di crisi in un settore come l'edilizia che incide sul 20% del pilo italiano. Grazie.